Pieno sostegno al gruppo locale e quanto hanno tenuto a sottolineare stamattina i parlamentari regionali di Forza Italia della provincia di Agrigento, Margherita Laroccaruvole e Riccardo Gallo, assieme all'assessore regionale agli enti locali Marco Zambuto. I vertici del partito scendono in campo nel sostenere l'azione dei dirigenti locali di Forza Italia per il lavoro finora svolto, finalizzato alla composizione della lista al Consiglio Comunale e per il ruolo centrale assunto all'interno della coalizione di centrodestra. Coalizione dalla quale Forza Italia è stata estromessa ieri su iniziativa del candidato sinnaco Matteo Mangiocavallo e per la quale i parlamentari agrigentini esprimono vivo disagio. Il confronto è la base di ogni azione politica, scrivono Laroccaruvole, Gallo e Zambuto, per i quali Mangiocavallo, per trovare un punto d'intesa, avrebbe potuto parlare di eventuali problemi con i rappresentanti regionali e provinciali del partito. Ancor più, sottolineano, se si considera che proprio Matteo Mangiocavallo ieri ha inteso sottolineare di non aver avuto con loro alcun contrasto. Una decisione, quella di estromettere Forza Italia, che i parlamentari definiscono quanto meno affrettata, è frutto forse di una reazione istintiva piuttosto che di una valutazione obiettiva e serena. Fino a sabato scorso, aggiungono, anche gli esponenti locali di Forza Italia erano considerati da Mangiocavallo alleati utili e preziosi e non erano state messe in discussione le logiche che hanno portato a sostenere la sua candidatura. Non si comprende, concludono i deputati agrigentini di Forza Italia, cosa si è cambiato in poche ore e cosa si nasconda dietro questa decisione. Questo dunque è il commento ufficiale dei parlamentari forzisti, gli stessi che sabato scorso sedevano accanto a Matteo Mangiocavallo e che si sono rivisti anche ieri all'Assemblea regionale siciliana impegnata nella complicatissima maratona per la finanziaria. Toni ben più accesi avevano caratterizzato invece per tutta la giornata di ieri il botte risposta tra i vertici locali del partito e Matteo Mangiocavallo, le cui dichiarazioni sono state ritenute ingiuriose, diffamatorie dai forzisti che a loro volta hanno definito una sceneggiata piena di falsità, quella messa in atto dal candidato sindaco e ipotizzato una regia più alta dietro questa scelta. Circostanza respinta da Mangiocavallo che ha parlato di logiche riferendosi al coordinatore Turturici che non gli appartengono e rivendicando piena libertà nella scelta personale della quale si è assunto ogni responsabilità. Insomma si è capito chiaramente che dopo gli abbracci e gli applausi di sabato sono arrivati i saluti e non proprio cordiali. Decisione irrevocabile quella di Matteo Mangiocavallo della quale il resto della coalizione ha dovuto prendere atto. Nessun commento ufficiale dalle parti di Fratelli d'Italia come dall'Udc, dall'MPA o dall'ex sindaco Fabrizio Di Paola che con Sciacca al centro fa parte della coalizione di centrodestra. Il progetto va avanti senza forza Italia, ribadito questa mattina Matteo Mangiocavallo che ieri sera parà di incontrato nuovamente gli esponenti della coalizione, posto che esattamente tra una settimana peraltro scade il termine per la presentazione delle candidature e delle liste che adesso scendono a quattro, a meno di ulteriori defaianze. Ovvio che la discussione abbia riguardato ancora la decisione di Mangiocavallo di estromettere forza Italia dal progetto, che gli alleati si sono visti notificare senza alcuna possibilità di intervento, anche se pare più di qualche perplessità sia stata comunque espressa, così come più di qualche tentativo di mediazione sia stato messo in atto da esponenti del centrodestra. Ponderare la decisione, valutarne tutti gli effetti con calma, questo è il tentativo fatto nei confronti di Mangiocavallo che, invece, è andato dritto come un treno, con quali conseguenze si vedrà. Intanto il gruppo locale di forza Italia, quello al quale i parlamentari hanno ribadito piena fiducia e sostegno, è chiamato alla reazione operativa. La lista dei candidati al Consiglio Comunale è pronta, ma rimarrà top secret fino al 18 maggio, aveva dichiarato il coordinatore Mario Turturici durante la convention all'hotel Torre del Barone. Adesso però c'è da pensare a ben altro, probabilmente ad un proprio candidato a sindaco e una sola lista rischia di risultare insufficiente. Chi si dovrà assumere questo fardello? Il nome più naturale al momento è quello del coordinatore Mario Turturici. Grazie.